Grazie, di solito intervengo su questioni economiche, federalismo, patto di stabilità. Oggi vorrei fare un intervento per me un po' anomalo sulla questione della giustizia perché vorrei porre all'Assemblea prima una riflessione e poi anche un atto di solidarietà verso il nostro sindaco che quattro giorni fa si è visto arrivare a casa proprio alle quattro del mattino la Guardia di Finanza con in mano agli arresti domiciliari per aver chiesto compensazioni a una ditta che gestiva una discarica, compensazioni che la stessa procura dice essere state chieste per il proprio comune. Ora mi sembra questo un eccesso perché un sindaco trattato come se avesse fatto una rapina a mano armata o un sequestro di persona neanche questa gente vanno a prenderla a casa a quell'ora di notte. Io ritengo questo un atteggiamento assolutamente non solo incomprensibile ma inusitato da parte della magistratura verso un amministratore che magari ha sbagliato una questione di procedure, magari doveva seguire un iter diverso ma semmai con delle violazioni di tipo amministrativo non certo di tipo penale. Premesso che la magistratura comunque deve fare il suo corso non è pensabile che un amministratore per aver fatto o aver cercato di fare il bene della propria comunità e del proprio ente possa essere trattato come un delinquente. Questo a proposito di quello che diceva Nicola Molteni anche della responsabilità dei giudici io ritengo questo un atto assolutamente prevaricatore da parte dell'amministrazione della giustizia verso un amministratore invece di un ente locale che stava facendo il suo lavoro. Questo è un elemento che io volevo porre perché lo ritengo una questione addirittura di un paese di una Repubblica delle Banane non è pensabile che un sindaco per quanto abbia avuto o possa avere delle responsabilità di tipo amministrativo venga trattato in questo modo da delinquente. Questo è quello che volevo porre. Si tratta del sindaco di Montichiari, Elena Zanola, questo comune di 24.000 abitanti sul cui territorio credo ci siano 9-10 discariche, una cosa di questo genere e quindi all'ennesima discarica evidentemente il sindaco ha cercato di avere delle compensazioni che è chiaro erano state chieste per il comune e non per se stesso. Questo è un elemento fondamentale. Grazie.